Thomas, a distanza di una stagione, il Teramo si ritrova più o meno nella stessa condizione di dover vincere e sperare anche nei risultati delle altre. Che sensazione si prova? Che sensazione si prova? Iniziano nessuno avrebbe detto che ci saremmo ritrovati in una situazione come questa. Purtroppo la stagione è andata così, ma è solo colpa nostra per fare mia colpa assolutamente, perché i cambi di allenatore sono soltanto degli alibi. Chi scende in campo siamo soltanto noi, quindi dobbiamo guardarci in faccia, dare il massimo. Ovviamente purtroppo come detto tu non dipende solo da noi, però io confido nella professionalità delle squadre che giocheranno una partita vera. Comunque quello che conta soprattutto è vincere noi. A Fano sei stato praticamente spettatore, ma hai visto di nuovo le solite difficoltà. Cosa manca, cosa bisogna fare negli ultimi 90 minuti della stagione? C'è da dire che in una partita come quella la palla scotta. Nessuna delle due squadre si teneva a scoprirsi per paura di prendere gol, quindi era una partita, ce l'aspettavamo una partita del genere. Purtroppo siamo stati poco spigliati davanti, magari è mancato un po' di cattiveria, un po' di personalità lì davanti per cercare il colpo al vincente. Sono cose che non possono mancare nella partita di domenica, perché abbiamo soltanto il risultato a disposizione e dobbiamo portarlo da nostra parte a tutti i costi. Quanto conterà la testa domenica qui al Bonolis? Tanto, conterà la testa come conteranno i tifosi, come conteranno le gambe, il cuore. Conta tutto in queste partite, non sono ingredienti che possono mancare. La Reggiana è l'avversario probabilmente più complicato perché è in piena corsa per il secondo posto in classifica. Come l'affronterete? La Reggiana viene qua per vincere, ma come è giusto che sia. Ovviamente noi come l'affrontiamo? Siamo lavorando tutti i giorni con tanta intensità per metterli in difficoltà, soprattutto sotto l'aspetto atletico. Poi ovviamente non c'è solo quello nel calcio, contano anche i singoli, contano la tecnica, contano i passaggi giusti. Quindi andiamo in campo comunque con la massima voglia di porterare dalla nostra parte il risultato. Vuoi fare un appello ai tifosi per domenica? Ma io penso non ce ne sia bisogno perché comunque la risposta da parte della città l'abbiamo avuta. L'abbiamo avuta a San Benedetto, addirittura a Fano erano più di 600, quindi penso che loro sappiano qual è l'importanza della partita. Sono sicuro che risponderanno in massa come hanno fatto precedentemente.